La mensa di Celestino è salva e non sarà demolita come anticipato dal quotidiano Il Centro. Dopo la sospensiva dello scorso autunno, il Tarra ha parzialmente annullato l'atto con il quale il Comune aveva disposto la demolizione, accogliendo il ricorso della fraterna Tau che gestisce la struttura, per il tramite dell'avvocato Fausto Corti. Lì non si dovrà rimuovere né la mensa di Celestino o nel centro di accoglienza per migranti, che quindi devono restare e possono continuare a funzionare e assicurare il loro servizio alla città. La vicenda era abbastanza semplice, infatti non c'era necessità di portarla di fronte a un Tarra. La convenzione che venne stipulata all'epoca tra la fraterna Tau e la provvedizione civile del Comune prevedeva che la fraterna avrebbe potuto utilizzare quella struttura fino a cessazione delle esigenze, cioè fino a ricostruzione della vecchia sede, che è la vecchia sede dei giardini, che è ancora tuttora inagibile. Quindi era quasi scontato che il Tarra dicesse che quella parte della struttura non poteva essere toccata. Resta il nodo relativo a chiese e convento, oltre ad alcuni container, a disposizione di diverse associazioni. Un passaggio della sentenza chiarisce che chiese e convento non sarebbero più necessari, in quanto la loro collocazione era temporanea per esigenze post-sisma, e considerando il fatto che era aperto sia San Bernardino che il convento di San Giuliano. Volendo, il Comune potrebbe anche procedere alla demolizione. Si tratta di una questione che noi comunque impugneremo dinanzi al Consiglio di Stato, perché riteniamo che la sentenza possa essere anche criticata da questo punto di vista. Di certo la fraterna Tau non provvederà, per quello che so, alla demolizione spontanea, di una struttura che svolge anche questa una funzione di assistenza spirituale alla comunità di Pettino, di Santa Barbara, enorme, tant'è che la chiesa è frequentatissima durante la domenica. La vicenda attorno al complesso costruito nel post-sisma era esplosa lo scorso anno. La gestione della struttura era regolata da un protocollo d'intesa sottoscritto il 5 aprile del 2010 tra Comune e il Centro, grazie alle donazioni dei lettori, Protezione Civile e Fraterna Tau. Il protocollo prevedeva la rimozione entro 36 mesi, salvo proroghe. Denardis, dirigente comunale, ordina poi la rimozione, ma per il TAR i 36 mesi non potevano essere perentori dal momento che appunto c'era una clausola. La questione in città aveva destato clamore, vista la preziosa opera che porta avanti la Fraterna Tau con la mensa dei poveri, che si trovava in precedenza in via dei giardini e che negli anni, grazie ai volontari, ha donato pasti a tantissime persone in difficoltà, oltre a portare avanti tante altre attività. Grazie. Grazie.